Oddio, bella forca. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oddio, oddio, mi sento. Oddio, il termone. Mamma mia. Mamma mia. Andando a mandare il termone. Mi sento. 39,2. Oddio, se può morire. Se può morire. Oh, mamma mia, mamma mia. No, 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 vattene. Vattene via, che io sto male. Vattene via. Scendiamo, vattene via. Via, io posso morire. Sto male, hai capito? Vattene via. Vattene via. Vattene via. Sto cagliaccio. Tutta bestiacea. Ma che coitta sei? Vattene via. Oddio. Oddio. Questa è la faccia, ragazza. Te leggo l'orecchia e tu non stacco sei. Ma non lo vuoi capire che ho fatto morire io? Oh. E posso morire davvero? Poi si legge sul giornale. I funerali partiranno dall'abitazione. Ma che abitazione che non ce l'ho? Dalla pensione partiranno. Ah. Sai che vergogno. A pensione tutti a ridere. A me di quella abitava in pensione. Ma come? Non è quello che si divertiva? Ma che divertiva? Che divertiva che io non mi sono mai mosso. Non so mai stare in nessun posto io. Oh. Ma tu lo sai che all'estero non ci sono mai stato? A uno lulo, per esempio, che c'è stato? Ah. Ma io ci vado a uno lulo, so. Ci vado, sì. Dice quando. E quando mi pare. Mi hanno detto che a uno lulo le donne ballano nude e cantano. Ah. Ula, ula, ula. Ula, ula, ue. Ula, ula, ula. Uol trentate. Ula, 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 ula. Ula, ula. Grazie a tutti.